Ieri altra giornata nera per chi ha percorso la 14, in particolar modo nel tratto tra le Marche e l'Abruzzo, tappezzato di cantieri, deviazioni e interruzioni. Il record è stato registrato nel tratto Val Vibrata-Pedaso in direzione Ancona, con 10 km di coda con camion incolonnati quasi fermi. Tutto ciò è la conseguenza dei lavori di manutenzione straordinari e potenziamento delle gallerie secondo i nuovi standard imposti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. I lavori iniziati a marzo interessano nuove gallerie e vedono impegnati circa 300 operai che lavorano in turni continuativi 7 giorni su 7. I lavori e soprattutto le codine a 14 stanno però inducendo numerosi automobilisti ad uscire dall'autostrada e percorrere chilometri sull'Adriatica per poi rientrare. Un aumento significativo di flusso sulle strade costiere che sta facendo preoccupare non pochi sindaci. È una situazione veramente disastrosa, oltre per il traffico in generale, che non è possibile fare 10-12 km con due ore, ma soprattutto per i comuni qui della costa, i comuni turistici dove stiamo aspettando i turisti che arrivano ed è veramente una situazione ingresciosa. Ma soprattutto anche perché molte volte vengono chiuse questi tratti di strada e si riversa sulla statale creando grosse difficoltà. A noi un po' di meno però nei comuni vicinori da Silvi, Pineto è veramente una situazione imbarazzante. Ovviamente siete pronti anche a manifestare se non ci saranno delle risposte? Assolutamente sì, ci stiamo già sentendo noi della costa, vediamo se le promesse che sono arrivate di riaprire alcuni tratti, bloccare questi lavori in questo periodo, se no giustamente ci sarà qualcosa di eclatante perché è impossibile fare una stagione in questo modo. Grazie.